E' sempre stata molta emozione per essere sempre qui, ho dato tanto, penso che di più di qualsiasi squadra io ho giocato e sono contento che tanti tifosi hanno riconosciuto il mio contributo. Devi sempre essere concentrato, poi devi sempre essere motivato, però quando giochi un derby non hai bisogno di essere motivato, sai già, perché a Torino c'è sempre questa motivazione per far sapere o far vedere che Juventus è la più grande squadra a Torino. Loro non avevano niente da perdere oggi perché ormai hanno raggiunto la salvezza e quindi potevano giocare anche con mente e sgombra. Toro oggi aveva proprio la partita ad hoc, la partita ideale per le sue caratteristiche, quella di difendersi nella prima metà campo e avere giocatori come Cerci, Immobile e El Caduri che a campo aperto diventano devastanti. Corri di chiama adesso! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.